Vi ricordate il video della truffa dell'airbag? Credo che sia uno dei video del 2022 che inaspettatamente è andato meglio in generale Nel video qualcuno poi non l'aveva capito ma questo è un bag nuovo ragazzi Le bande laterali sono quelle vecchie ma tutto il resto vero airbag Cioè quello sotto nero è l'airbag Queste, quella lì bianca, sono solo coperture Quella bianca è nuova mentre queste qua colorate sono quelle del vecchio airbag Siccome appunto ci sono arrivate le nuove coperture per l'airbag personalizzate Vecchie coperture piegate E adesso timelapsino veloce perché sono proprio curioso di vedere come sta il bag con le nuove carri Chudi gli occhi Robi Boom No Il logo Monza Pizza Cioè signori la patria va urnata Adesso basta solo gonfiarlo Tac, eccolo qua Si presenta così da davanti, così da dietro Lasciamo stare che è soprafaschievo perché vabbè è sponchissimo Dovremmo pulirlo un po' il bianco No il bianco Chi ha seguito bene il video della sostituzione dell'airbag Aveva sentito che l'airbag è stato in parte finanziato da Instatare Santa Aziende che supportano veramente il nostro sport Ringraziamo il Monza Pizza e tutti voi ragazzi che venite al Monza Pizza perché è solo grazie a voi che continuate a venire costantemente e ci avete fatto raggiungere nel 2022 ben 850 tesserati E poi vabbè è il logo di Big Airbag che vabbè ci ha fatto un piccolo sconticino sul tutto Abbiamo deciso di comprare un nuovo Big Airbag perché la garanzia è di 4 anni e la qualità del materiale del PVC è nettamente diversa rispetto agli airbag che trovate su Alibaba oppure i vari siti cinesi di importazione e robe del genere Ho la bocca piena, bacino e Instatare Santa A proposito di Futspring giusto? Raga sto provando il nuovo Energy Aminos di Futspring Nuovo gusto mora e ribes nero Se volete un integratore per quando vi allenate Magari un gusto bello dolce Questo spacca veramente Vi lascio comunque il link in descrizione per vedere l'Energy Aminos di Futspring Usate sempre il codice faraone se acquistate qualcosa così almeno io ci guadagno sempre qualcosina Grazie Che poi raga non è una stupidata L'unico modo che avete per supportarmi Anche solo andare a cliccare i link in descrizione Magari non vi interessa o magari siete solo incuriositi Cliccate i link in descrizione, guardate e chiudeteli ma mi date una grossa mano Perché i brand ogni volta che chiedono uno spazio all'interno del video Poi chiedono anche le statistiche e vanno a vedere quante persone cliccano il link Quindi se semplicemente lo cliccate mi date una mano perché il brand è solo più contento Ora ragazzi c'è una grossa novità Però prima devo rispondere alla domanda che avete visto sul titolo Smetto di fare la trita Allora ragazzi dovete sapere che dopo tutti questi anni a fare l'atleta non so come dirvelo Cioè È giunto quel momento Devo voltare pagina Prendere delle decisioni perché non tutto nella vita può durare Può essere eterno Ci sono dei momenti nella vita che le decisioni che devi prendere devono essere ponderate Essere importanti e non sempre fanno piacere Nel 2015 sono diventato atleta professionista perché ho proprio aperto la partita IVA da atleta Da quel momento la mia vita è cambiata perché mi sono veramente sentito di aver cambiato qualcosa Da essere il semplice ragazzo che girava allo skate park a tutti gli effetti andare in bici era diventato il mio lavoro E c'erano un po' di aziende che appunto credevano in me e mi supportavano Ho aperto un bike park per dare la possibilità a tutti di provare lo sport e venire a girare insieme a me Ho partecipato a una marea di eventi e sono riuscito ad arrivare abbastanza spesso sul podio per la mia carriera Anche se da quando ho il canale di Youtube chiaramente voi avete visto solo una piccola parte della mia carriera La parte finale Più vai avanti c'è uno sport che comunque porta a osare Osando si cade, si fa male Più vai avanti con l'età questa cosa non lo so Quello che sto cercando di dirvi raga è... Non so come dirlo Glielo dici tu e glielo dico io Glielo dici tu Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando Io si Ma sveglia ma por... In realtà ragazzi cambio solo regime fiscale Chiudo la mia partita IVA da atleta professionista Quindi fiscalmente non sarò più un atleta Ma semplicemente gestirò tutto con la mia SRL che ho aperto qualche anno fa Non sono più un atleta Stop i video e commenti Stop e commenti Sei un cognone Esatto esatto bravo Fino adesso io avevo una partita IVA da atleta professionista Poi quando è entrato Youtube ragazzi Ho aperto un SRL come attività per campagne marketing Pubblicità creazioni di video eccetera eccetera A distanza di un po' di tempo la parte prevalente della mia attività è a tutti gli effetti la parte dell'SRL Cioè creare video e tutto il resto Col canale Youtube anche i miei sponsor si sono interessati a questa parte di attività che faccio Quindi non aveva più senso tenere aperte queste due posizioni perché la parte di atleta era sempre meno Cioè effettivamente io creo contenuti per aziende che fanno pezzi di bici Continuerò a fare le gare Anzi col fatto che ci sono questi cazzo di gnomi di merda Mi sprona il fatto di avere loro che stanno crescendo e hanno voglia magari di andare a fare le gare La cosa figa è che mi piacerebbe andare magari a fare qualche contest proprio con loro Però ecco volevo aggiornarvi su questa cosa sulla mia posizione attuale alla faccia dello Youtuber che non è un lavoro Comunque proprio a tal proposito di tutto questo bel discorso che abbiamo fatto Una bella nuova azienda con cui ho iniziato a collaborare Switch Components ragazzi Ma davvero Toto raccontaci di più Azienda italiana raga che fa dei componenti veramente da paura Ben sapete ragazzi era tanti anni che utilizzavo gli stessi componenti Di un mio ex sponsor che ormai non avevo da tre anni circa C'era anche un altro piccolo problema con questo sponsor I pezzi ragazzi erano decisamente costosi 150 euro per i pedali Scusa no Ragazzi Switch invece è completamente italiana Soprattutto raga non costano un cacchio di occhio della testa Quindi adesso montiamo il tutto e vediamo un po' come stanno questi nuovi pezzettini sulla bella Abbiamo 78 cm di manubrio Quanto dobbiamo tagliare per parte per arrivare a 71 cm Aspetta da 78 a 71 Ma non è vero non è che non è professionale Anzi più professionale perché ci allungiamo con gli attrezzi che abbiamo Allora ragazzi siamo un po' indecisi se montare questo o questo Quelli color petrol oil sono un pochino più larghi E per truccare chiaramente vogliamo i pedali belli larghi Così anche se manchi un po' il piede e lo metti un po' in esterno Non lo perde Quindi cosa abbiamo montato alla fine della fiera Stemmino whoops Manubrio scrub Io l'ho messo in alluminio, in carbonio, in dirt in genere Non mi sono mai fidato troppo Ho sempre avuto alluminio Reggisellina switch super leggero E poi raga il pezzo forte Cioè io vorrei dire raga il colorino di questo pedalino Non so se ve lo sognate voi di notte Andate comunque in descrizione vi lascio il link per vedere un po' i prodotti switch Adesso bisogna testare il tutto perché è bello tutto bello Ma raga Ma con che bici la testi? Come con che bici la testi? Questa me la sto portando a casa La gang quando c'è il vento ragazzi Guardate come si riducono Come i polli tutti ammucchiati in un punto A fare gli air alti così Gli air alti così Sono impressionato Occhio attenzione attenzione sta arrivando Mi intrometto Povero cerchio scusa Ma in giusto inizio devo dire che è mai una piega Ninja drop Prego buttati bene avanti Allora oggi si parla molto di castrazione Per dei personaggi che hanno compiuto gravi reati Scusa? Ma zio non c'è su niente Alza alza il pantalone scusa Devi alzarlo Non c'è niente Senza protezione non l'avrei mai fatto nella vita Per evitare che tu lo rifaccia Con la castrazione chimica Ti faccio passare la voglia di farlo Per il resto del mondo Aspetta 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 Oh vai 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 su deciso Oh tira su bene le gambe Ma te vi faccio due sette bar Ce ne stanno due Ma prova a caso Albi Minchia sarai lì da mezz'ora a parlare Dove vado? Cosa faccio? Venga provalo Ma lo prendi dritto così Non lo prendi che tanti Ma inizia a farlo Prova a fare un cento Vai lì e fai cento a caso Guarda guarda il mio davanti Come lo faccio salire Guarda Arrivo Il davanti sale E hollo Il davanti è tipo salito fino a qua Ho capito Ho capito? Attenzione che ha capito Ha capito? Ha capito? Vai Avrà capito? Ha capito? Io non sono una miga Just do it Oh vai Oh non è Avevi detto di aver capito Ci siamo messi sul quarter A fare tutte le stesse stupidate Perché oggi c'è tanto vento Bisogna sfruttare tutte le cose del parco Che di solito non usiamo Che sono piccole Proverò a fare bar spin Su tutte queste strutture Ah E ti manca la spinta Big canale Qui c'è il canalettino della moto da cross Fammi provare a vedere se funziona Con la bici Come scavola Non credo nelle mie possibilità ancora di Holly Whip Struiter Questa era bello Raga sta arrivando l'abbonanza Ci vediamo domani Una domanda che mi viene fatta a me molto spesso Quando smetti di girare? Oh c'è ancora un sacco di cose da fare Intanto non c'è ancora nessuno Che è arrivato al nostro livello Più che altro sai cos'è? Che arrivo a 30 anni Quest'anno 30 anni dico 30 anni buona No ma perché Diego sai Magari fuori dal cranco Non è più voglio fare le gare Ma scusa l'anno scorso dove erano questi Che al distri-trail non c'erano? Eh ma appunto Oggi non c'è vento finalmente Voglio girare un po' in santa pace Ne approfittiamo un po' per girare anche con Diego Che giriamo quasi mai ormai assieme Allora tre pro porti A kamikaze Proprio double whip in trenino Che paura Tre sei Chi fa più x C'è più volte x Vediamo Non so se ce ne stanno tre Ragazzo testimonia che il triplo x up C'era Per questo ci regalerai Non lo dico adesso Ma l'hai già fatto? No Perché c'era il vento Adesso? Oh devi farlo oggi Ciò che si dichiara in camera Non c'è via di ritorno La GoPro è il punto dove devi atterrare Vogliamo più lungo Guarda il piccettino da primo flip solito No sai cosa dobbiamo fare? Ogni volta ti fai sempre la stessa cosa Uno stai qui Logasi flip Eeeh Tutti i carici che vanno a bracciarlo Tipo lui quando Che vedi che lo sta facendo giusto Noi dobbiamo tipo saltare dietro Così lui di lì non ci vede Ok Silenzio Ho convinto 100% incazzato Non l'abbiamo visto eh Ce lo siamo perso L'hai chiuso? Ma veramente l'hai chiuso? Davvero? Non l'abbiamo visto noi? Eh allora lo rifaccio No stiamo scherzando Figa grande L'abbiamo fatto apposta Ma stai facendo sia a destra che a sinistra Decay 2 Destra a sinistra Tre downset da una parte E poi dall'altra Allora dovremmo farle di là È stato piccolo Sì Come no? È la stessa Ma dai un tre downset piccolino Eh iniziamo a farlo Vado di regular A regular ce l'ho A sinistra No Dai Cazzo Quindi di qui Colpetto bene E saliamo Mi fa sempre cagare addosso Cioè non è che sono tranquillo quando gli faccio questi trucchi No è un trucco di merda Cioè sono sempre ansiato ma di brutto Diego preferisce farlo in oppo Vediamo Oh Bestia Ti ha mangiato la ruota Attenzione Riprova Diego È giusto giusto Oh Fatica figa Adesso No devi farlo dall'altro l'altro Bastardo Eh faccio un po' di 3-6 prima Perché mi sconvino sempre Per non girare troppo piano 3-6 Di solito ho quel problema lì Ah Eccolo Eccolo No 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 Oh Comunque Sembra banale ragazzi Ma quando si cade dal tre downset Penso che è la posizione peggiore Di caduta Di tutti i trick Oh Che puttana che stai Quando si cade dal tre downset Penso che è la posizione peggiore Dalla che mina Mi scusi Non volevo fare Non volevo fargli fare Non è Non è ancora pronto Ragazzi era veramente tanto tempo Che io e Diego non giravamo assieme Un po' per divertirci Riprovare un po' i trick Come facevamo quando abbiamo iniziato assieme Ogni tanto voglio comunque portarvi questi video al park Perché è comunque il luogo dove effettivamente passo più tempo Anche se voi su youtube vedete tante cose Tra macchina, sci, moto, bici Vado di qua, vado di là Io sono principalmente qui Perché il posto che ho creato È la mia seconda casa Quest'anno ho in mente di rifare completamente la linea grossa ragazzi Perché è spazio inutilizzato nel park Video raggiornati? Mi raccomando Noi continuiamo a gasare in bici Come abbiamo sempre fatto Ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao Ciao